Il gran gol da parte Il numero 10 Patacconi Che firma l'1-0 per il Real Madrid Gol sotto al set Patacconi Recupere il pallone Patacconi se ne va a Ditolwe Patacconi La doppietta del numero 10 2-0 Real Madrid Per Patacconi Buon intervento di De Angelis Puntuale Manda in fallo laterale Patacconi batte velocemente Per Di Carluccio Ancora Patacconi col destro Stringe troppo la conclusione Si spegne sul fondo il tentativo del 10 Parte Ferretti Caputi Che riesce a bucare Sia difensori che portiere Di mezza alle distanze Lo Zambrone Gol di Ferretti Caputi Da Ferretti Caputi Di Tolwe Fa una gran cosa Riesce a girarsi bene Poi con l'esterno Vada De Angelis Che controlla Arriva i difensori De Angelis Foddis È riuscito A tenerle in campo Rimessa al fondo Per Colantonio E i suoi Colantonio La lascia scorrere De Angelis De Angelis Col sinistro Forte L'accompagna sul fondo Con lo sguardo Foddis Riesce a controllare Il numero 9 Recupera Di Stefano Del Real Madrid Quindi Di Carluccio Ha la scaricata Da Procopio Col sinistro Palo E poi non riesce Arriba a dire in rete Grande occasione Per il Real Madrid Farà senza problemi Poi Grande aggancio Di De Angelis Foddis È riuscito Ma sarà calcio di rigore Dice l'arbitro Per un tocco di mano Dalla parte di Procopio Parte De Angelis Contro Foddis De Angelis Bucato Il numero 1 Del Real Madrid Pareggiate Pareggiata la partita 2-2 Procopio Alla in mezzo Da Di Carluccio Poi Di Stefano Costruisce bene Il Real Madrid E infatti Arriva il gol 3-2 Azione corale Da parte degli uomini Maia Nera Che si conclude Col gol del vantaggio Foddis In avanti Da Di Carluccio Controlla il numero 9 Palla scaricata Da Patacconi Che è riuscito Ad atterrare Col Antonio E poi Trafiggerlo Per il gol Del 4-2 Ferretti Caputi Parte la rincorsa Del numero 9 Va col sinistro Ferretti Caputi De Parelle Foddis E poi De Angelis Da due passi Non è riuscito A inquadrare Lo specchio E la porta Occasionissima Per lo Zambrone Patacconi Vada Di Carluccio Poi Alessandro Ancora Di Carluccio E arriva il destro Preciso Letale Da parte del numero 9 Il 5-2 Del Real Madrid Cato Lo scambio Con Di Carluccio Proprio lui A battere la rimessa Laterale Alessandro Può tentare La conclusione Va invece Di Carluccio Sul fondo Poi Patacconi Non è riuscito A firmare Il poker Palla per De Angelis Si gira De Angelis Vicino al secondo palo Forte Col mancino Ferretti Caputi Palla recuperata Da Patacconi Che sfrutta Il regalo avversario E firma il 6-2 Poker Per lui Di Tolve È riuscito A strappargli Il pallone Dei piedi Cerca di ripartire Il numero 13 Se ne va due uomini Poi serve De Angelis De Angelis Sotto le gambe Di Foddis Firma il 6-3 Adesso Sono tre I gol di distanza Fra le due squadre È riuscito Procopio È solo Poi per Patacconi Asse Procopio Patacconi Che porta 7-3 Del Real Madrid Alla per Di Stefano Che approfitta Ancora una volta Del regalo Da parte dello Zambrone 8-3 Tra le due squadre Per il 9 Di Tolve Cerca lo scambio Ancora Di Tolve Passa Su due uomini Di Tolve Vince un altro contrasto Di Tolve Vicino Al Gol dell'8-4 Zambrone Con il suo numero 13 Calcio di punizione Zambrone Sul punto di battuta Sul punto di battuta Di Tolve Che va col destro Vicino al secondo palo Lascia scorrere Però Foddis È ben presente E attento Palla per Di Carluccio Col destro Col Antonio E poi Riesce a ribattere In tap in Il 9-3 Il Real Madrid Gol di Di Carluccio Finisce anche la gara 11-3 Qui al W di Roma Il 9-3